La presentazione del Senato del massimo di legamento è prevista nella seduta di domani che avrà inizio alle ore 14. La discussione generale sulla fiducia per la quale sono state ripartite circa 4 ore in un'altra zona. Dopo il voto di fiducia la seduta sarà sorpresa per consentire al governo di presentare la seconda nota di variazione che sarà deferita alla quinta commissione permanente, anche se lei tiri giù il cartello, lei tiri giù, sentasi la crice bella nuova, lei continuamente disturba l'aula, continuamente, l'ho già diffidata più volte. La conferenza del Capi Nupo. Allora, la conferenza, non capisco perché uno protesti senza aver prima ascoltato l'illa del planetario. La conferenza del Capi Nupo. La conferenza del Capi Nupo. Siete diventati quelli che in commissione bilancio hanno negato lo streaming per non farvi venere all'opera dagli italiani! Basta! 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 Fate concludere la senatrice Bernini.